La prima cosa che mi viene da dire è che io preferisco perdere contro una squadra così forte, una squadra che ha vinto le Olimpiadi, piuttosto che vincere una partita con squadre deboli, perché soltanto perdendo queste partite si può crescere. Non credo che ci siano quattro gol di differenza tra noi e gli Stati Uniti, abbiamo preso malamente il primo gol dopo due minuti e il gol alla fine del primo tempo che ci hanno un po' condizionato. Non crede che il gioco fosse una differenza di 4 gol, quindi ci hanno preso i due minuti del gioco e poi ci hanno preso alla fine della prima parte, ma la squadra non era indicativa del gioco che si sente. Sicuramente dobbiamo crescere sotto l'aspetto fisico perché abbiamo perso tante palle che che magari potevano essere giocate meglio, ma credo che sia stato determinato dal fatto che gli Stati Uniti pressavano bene e forse noi non siamo abituati a questa velocità di esecuzione, questa velocità di gioco. La cosa che mi fa piacere è che la squadra ha provato a giocare a pallone e si sono trovate in campo. La cosa che si è piaciuta con la squadra è che la squadra continui a cercare di giocare e si trovano in campo molto bene. Questa è il frutto di tre mesi di lavoro? È chiaro che dobbiamo crescere, ma secondo me siamo sulla strada giusta. Naturalmente la squadra deve crescere, ma siamo sulla strada giusta dove la squadra vuole la squadra. Poi se Cristina decide di fare questo centesimo gol. Se Cristina decide di fare la 100th gol, poi possiamo andare avanti. Come Carolina ha detto, non credo che la scuola è indicativa di come la squadra è che è molto difficile di dare un gol così early in una squadra, soprattutto per gli americani. e poi a dare un gol in una squadra così tardi in la prima squadra, si sorti demoralizzatevi di andare in una squadra. Perché un 1-0 game può andare comunque. E poi ho pensato che abbiamo avuto molto meglio in la seconda squadra, e poi abbiamo avuto due gols. Abbiamo dovuto avere avuto la squadra, avuto la scuola e poi avuto la scuola, e poi avuto la squadra. Ma io credo che abbiamo avuto un'altra squadra, perché il nostro obiettivo è stato di migliorare in questa squadra, perché abbiamo avuto un'altra squadra. E quindi abbiamo avuto questo. E quindi ogni volta che abbiamo avuto la squadra, abbiamo improvedo, e questo è un'altra cosa davvero. La squadra è una verità di questo. You've been around the national team for so long and you've played under a certain style and for just the team and the girls that are coming in and out of the program to be able to change and to be able to learn something new, it's going to take a while. Oh, for sure. I mean, we were under Evan for almost nine years, I think, and we were playing a completely different style of play and so many of us grew up on that style of play and, you know, like Carolina said, we've only been together, you know, I think technically for like 22 days as a group and we've come a long way, but we still have a long way to go and, you know, luckily we don't have a major tournament for a couple of years, but yeah, I mean, every day in practice we get better and everyone's so excited to be a part of this program and just, I don't know, excited for the future and we're all in this 100%, you know, to develop this style of play. Caroline, how are you adapting to football in Canada? Cioè, non è, non è, qui il problema non è soltanto quello di cambiare il modo di giocare. It's not only something to try to change the method of playing. Qui diciamo che è cambiata anche la gestione, la gestione del gruppo. Io ho trovato qui giocatrici che hanno paura di sbagliare. Se una giocatrice ha paura di sbagliare e non sbaglia non migliorerà mai. Quindi è un po' tutto che sta cambiando, è un po' tutto nuovo. Però se devo dire, io credo, mi sembra insomma di poter dire che la gente si è divertita oggi al campo. Cioè, non è stata una partita noiosa. Cioè, se una giocatrice ha paura di sbagliare, per me è più difficile farle cambiare. Capire che si deve smarcare per ricevere palla. Perché ha paura di farsi dare la palla. Cioè, quindi stiamo cercando un po' di cambiare un po'. So, back to the thing that we hear the players, some of the players are still scared to make mistakes. And they've got to learn and trust that to get away from a player, they have to make some moves and take the chances. We're trying to encourage, she's trying to encourage the players to follow, make the fakes and not worry about making the mistakes. Because if they don't make the mistakes, they won't learn. How long does she think it will take to change that culture? Quanto tempo pensi che ci metti per cambiare questa cultura? Ma io credo che dei cambiamenti già si sono visti oggi, palle lunghe, ci sono, beh, le palle lunghe esistono nel calcio, in una partita ci stanno, però non si è vista, non si sono viste tutte le palle lunghe che si vedevano, quindi secondo me i cambiamenti già si stanno vedendo. She feels that the change, you can already start seeing the change in the girls' play. You didn't see long balls. Long ball is just one of the three methods for attacking for her, but you didn't see that directly. The girls are trying to keep possession and try to switch the ball when they can, so they already are in that transition. Naturally, there's a lot of room to grow. It's clear that the more she has, the longer and the more times she has the players in season, the faster the change will occur. Is she going to continue trying to get a tough opposition? Do you know if she continues to play against, let's say, against the United States or if she will play against other teams? No, she's actually requested to play the stronger team so she can actually grow faster and quicker. and test with the team. It's clear that it's not always easy to organize games with competitive teams, so it will also happen that we will play with less competitive teams. But my request is to play with strong teams. Yeah, she's requested to play the toughest teams around, but naturally, as you can imagine, it's not always a convenient or opportune to have dates against the strongest teams in the world, so sometimes there will be teams that are behind us in the rankings. But she has requested that they play the top teams as often as possible. One last question. Christine, can you talk about goal number 100? The whole distraction issue, is it a distraction something you just want to get out of the way and hopefully everybody can move on? Yes. She's respecting the coach and doesn't want to surpass her goal number. No, I mean, obviously, I think I put more pressure on myself today just because it was at home and we don't really get too many chances to play in front of the fans. And, you know, it would have been cool, you know, the way it could have worked out scoring it at home against the U.S. But, I mean, they're one of the best teams in the world and their defense is really good, really well organized and difficult to break down. So it didn't happen today. But I know it'll happen sooner or later, so I'm not too concerned about it. But yeah, it would have been nice to get it out of the way here. It would be nice to play a weak team and get it all well with. Pardon? It would be nice to play a weak team and get it all well with. No, I'd rather score against the U.S. or a weak team. Yeah. Yeah.